Ecco la Raffaella, Simone, Andrea, Cesaretti, vai Cesaretti, sulla pista, questa si chiama? La banchetta o la candar questa? Candar banchetta. Eh, candar banchetta, questo è lo shoes finale. Un grande salto, mitico qui. Io l'ho visto le gare, ero a sede là. Ho visto che l'hai vista. Ecco qua tutto il resto della pattuglia che sta sopraggiungendo, in ordine sparso, ho visto la consistenza della neve, neve fresca fino al ginocchio in alcuni punti. Non battuta, pista da discesa libera, sa? Ecco qua, Marco, siamo tutti. Massimo. Uno è caduto, spero che non sia dei nostri. Dove sarà Claudio? Giù in fondo? Yes, yes. Giù? No.